Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo commentario del TheShareGaming, io sono Favij e qui con me c'è... Hai puffo! C'è lancia le candele! Cos'è? Stupendo! Guarda che figo! Vabbè, non è delle candele che vi volevamo parlare. No, non vi volevamo parlare. Dai, introduci un po' il video. Allora, qua siamo su Minecraft, come vi avevamo promesso, il commentario è su Minecraft, perché niente, vi avevo promesso. Volevo farlo su Oblivion, però vi avevo detto Minecraft e quindi adesso facciamo Minecraft per adesso. La prossima volta lo farò su Oblivion e niente, questo è un server che abbiamo creato apposta per i commentari. Commentari. Postato da Waikolibri, che è un'altra comparsa. Cioè, l'ultima volta c'era OnlyGamesita come collaboratore del commentario. Sappiamo lui che è Waikolibri. Pratica, noi non riusciamo a fare un server, abbiamo bisogno degli altri. Sì, noi chiamiamo di aiuti da parte degli altri. Sfruttiamo gli altri. Esatto. Niente, dato che Minecraft è un gioco grandissimo e non possiamo introdurvelo in... Cioè, tutto quanto. Diciamo che dobbiamo andare abbastanza in fretta. Esatto. Allora, non vi stiamo a spiegare. Tanto lo conoscete Minecraft, non penso che non conosciate Minecraft. Cioè. Ormai è diventato comodissimo. Sì, infatti, boh, vi diremo soltanto quello che... Cioè, i nostri trucchetti, quello che... Le nostre strategie più che altro, nient'altro. Innanzitutto... Cioè, dico un attimo che, come vedete, la casa è già fatta. Scusate la merda di estetica, però... Sì, vabbè. Dentro... L'abbiamo fatta alla veloce. Sì, alla veloce, così. Per non annoiare. Sì, sì. E... Niente, siamo intanto... Diciamo che Nicky Box è partito. E... Tornerà fra una o due settimane. E... Mi ha lasciato un messaggio da dire, ovvero che... Da settembre o novembre... Anche lui farà... Farà i video. Perché arriva al computer. E quindi, niente. Tutto qua. Vabbè, niente. Dai, io inizierei ad entrarci nelle miniere. Vai, vai. Spaccati. Allora, vabbè. Allora... Diciamo, ve lo dico, anche se non dovrei... Perché tanto lo sapete già. Ehm... Minecraft. Ehm... Cioè, lo scopo... Cioè, non ha uno scopo, è un gioco libero, però... Lo scopo principale è scavare nelle miniere, trovare materiali, crearsi nuove armature, picconi, andare sempre all'esplorazione. Boh, questo è il... Diciamo che ha vari scopi. Cioè, il primo giorno lo scopo è quello di sopravvivere. E poi, boh, puoi fare quello che cazzo vuoi, tipo, costruirti la casa. Esatto, sì. Scavare. E niente. Tutto qua. Tutto qua. Allora, abbiamo già scavato le miniere, però... Abbiamo lasciato parecchi dungeon non scoperti, perché lo volevamo... Cioè... Scavarli in diretta, diciamo. Ok. Scavarli, le sbloccare... Quindi, dato che siamo in diretta, quindi questo è un live... Noi commentiamo sempre live di recente, comunque... Non... Sì, io sento zona. Anch'io. Sì, buongiorno. Sì, sì, ok. Guarda, guarda che cecchino che mi prende. Ah, beh. Ha fatto un non scopo e mi stava prendendo. Mi ha preso. Ha provato a fare il non scopo. Allora, 360, si è buttato nella lava, non scopo e mi ha preso. Dico una freccia. Hit marker. Hit marker. Non c'è più. È un napo del cazzo. Va bene. E niente. Eh, boh, proseguiamo. Io direi... C'è un po' di roba. C'è un po' di qua. Io sento... Mi stanno urlando nelle orecchie, zombie. Adesso c'è un'arma disegnata nella roccia, tipo Shino Numa. Partiamo con Call of Duty zombie. Scusa. C'è diamante, guarda il diamante là. Ah, è vero. Che c***o. Diamante in diretta, ragazzi. Solo qui sul The Shared Gaming. Dice in superi il diamante. Io per ogni cosa buona... Madonna mia. Che cattotto che mi è piccato. C'hai una mela, perché devo prendere vita. Una mela? No. Qualcosa a magnà. No, non c'è niente. Io sto a due cuori, però. Ho altro diamante. Ragazzi, ma non c'è il piccone di metallo. Tu ce l'hai? No. Ragazzi, abbiamo due miliardi di diamanti, ma non un piccone di metallo. Allora, io dopo questo qua chiuderei il canale, perché non possiamo... Non possiamo permetterci... Non possiamo permetterci di far vedere che non abbiamo il piccone di metallo e abbiamo trovato tanto di quel diamante. Vabbè. Guarda, ma mi sembra possibile, ma dai. Ma dov'è? È qui, dove sono io. Abbiamo trovato tanto di quel diamante, ma non c'è un piccone di metallo. Possibile che non l'abbiamo visto prima. Te lo giuro. Ma no, ma io non l'abbiamo visto. Cioè, boh, non lo so. Torno su a prenderlo. Dai, torno. Dai, vai. Nel frattempo mi interlocco qualcosa e magno qualcosa perché sto crepando. Ma che magni? Eh, devo un po' di vita. Portami giù due bisteccazze, va. Sì, cucino. Sì, sì. Al barbio. Mi stanno beccando frecce, non so da dove, io continuo a correre. Al barbio, vecchio, mi raccomando. I'll build the city, I'm so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Yeah, yeah. There must be something I can craft To ease the burden of this task, yeah. I shoot my arrows in the air sometimes Saying, ayo, creepers killed. Io mi fermo in questo momento perché vorrei che voi facesse una scommessa. Morirò o no morirò? Via le scommesse, sì o no? Premette il tasto A per dire sì, il tasto B per dire no. 3, 2, 1. As. No, as non è. Morirò quindi? Morirai, morirai, sì. Ok, via le scommesse. 5 euro, eh, se muoio. 5, 5, 5. Se muoio mi dai 5 euro tu, se muoio ti do 5 euro. Ti carico la postpay, hai visto? Anche, anche, poi colibri dice la sua. Sì, sì. Poi colibri dice la sua, che ha detto? Ah. Ah, morirò. Oh, ma vaffa il culo. Cioè, amica, ma qualcuno che tiene piene per me? Nessuno. Mi raccomando, nei commenti tutti ha. Nei commenti tutti ha, sì, sì. Se vedete, ah, nei commenti, se pensate che io devo morire, fatelo ora perché sei poi sopravvivoso. Cioè. E io ho le picche di ferro. Ce l'ha lui. No, ma dirlo adesso. Dirlo adesso. Ce l'ha adesso. Un'ora che cerco di fuggire, con uno, con un cuore solo. Anche io. Morirondo. No, morirondo. E non... Porta le bisteccazze, Riccardo. E poi le picche. Io porto le bisteccazze, do anche a cucinare. Oh, mi hanno acceso. Ah, sono morto io. Anche io ho un cuore. Ok. Ragazzi, era una caverna piccolissima. Come cacchio è che non esco? Secondo me sto sbucando in una montagna. Probabile. Sì, perché non è possibile, dai. Ok. Oh, ragazzi, niente. Non si esce. Quanto è il video? Non lo so, ma noi andiamo avanti comunque. Noi andiamo avanti comunque, sì, perché... Cioè, il video chiaramente non possiamo farlo molto lungo, sapete, no? A massimo 15 minuti, quindi... Metteremo al massimo o velocità doppia o... Ok, ragazzi, sono uscito. Nel momento in cui esco, devo riuscire ad entrare in casa. E lì scopriremo se l'ho scommessa della morte. L'avete vinto o no. Bene, sono uscito. Non c'è casa mia, però. Non so perché non c'è casa mia. Bene, ragazzi, non c'è casa mia. Fantastico. C'è un creeper. Ok, sono morto, sono morto, sono morto. Sono morto? No, non sono morto. Mezzo cuore! Come mezzo cuore? Ti giuro, mi è esploso un creeper in faccia, sono ancora mezzo cuore. E fa VJ, far colla ma non molla. Ma... Mi sa che ho ritrovato la strada di casa. Tra l'altro siete usciti prima voi. Io sono uscito perché sono morto. Ah. Ragazzi, mezzo cuore, ce la farò tornare a casa? Non si sa. Aia, ma chi è che mi spara? Mezzo cuore, cado da un brannino, sono morto. Chi è che mi spara? Ma cosa ci fanno scheletri in casa? Ci fanno scheletri... No, 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 non vale. Non vale. C'è uno scheletri in casa. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è valido, la scommetta era se riuscivo a entrare in casa, però non vale se ci sono gli scheletri in casa. Mena, mena, mena. Mena. Muore. Yeah. E ho vinto io, ho vinto io. Ho vinto. Ho vinto. No, vaffanculo, non vale. Ma VJ... Oh, sì, stronzo. Ma VJ è morto, dai. Boh, ci caricherà... Si, stronzo. Ci caricherà la postpay. Ma andate a cazzo, postpay. Ma dove mi ha respawnato? Stavendo nel vuoto? Dei cadere... Dei andare lì indietro. Ah, è casa mia, sì, sono qua. Boh, ragazzi... Non so quanto è il video. Quanto è il video? Non lo so. Spero che non sia 15 minuti. Io non lo so. Beh, al massimo mettiamo due parti, no? Sì, dai, al massimo mettiamo due parti. Oh, io ce la picca in ferro, vado a PR e... Anche a me serve. Però il problema è che adesso che sono morto, laggo. Perché, ragazzi, una volta che si muore il suo server, si lagga. Se mi vedi, lanciami sui piedi tre picconi di cui uno di ferro. Eh, sono già sotto. Le torce. Sono già sotto io. Davvero? Aha. Fermati, dove sei? Come fermati, dove sei? Sono fermo. Sei sotto le scale? Sono... Hai capito, no? No. Devi capire. Ti lascia un po' di roba sulle scale. Quali scale? Quelle di legno? Ok, ti vedo, ti vedo, ti vedo. Vai indietro. Vai, scendi, scendi, scendi. Non laghi. No, veramente sto laggando. Beh. Hai lanciato le torce sulle scale? Aha. Ok, ho finito di laggare, ragazzi. Si può riprendere. Eh, ma la cosa di metallo, piccola. Ce l'ho io, ce l'ho io. Eh, ma devi darmelo. Perché? Ah, è vero. Due. No, due. Ma puoi fare tutto tu? Certo. No, ce n'è solo una, comunque. Davvero? Aha. Non vale. Dai te, vieni. Ti do a te l'onore di scavare. Grazie, grazie. Perché se lo fai tu non si vede. Eh, va bene, ma vai avanti almeno. Ma innanzitutto stai calmo, perché... No, non ti devo una minchia. Mi devi cinque euro. Sì, sì. Come sì, sì? Tutti testimoni, eh? Sì, sì. Cinque euro mi devo. Allora. Dove stiamo, qua? Noi stiamo. Eh, sì, sì. Non trovo... C'è. Aspetta. Dove... Dove è? Non mi ricordo più. È qua? Sì, è qua, è qua. Ok, mi sono ricordato. Sicuro? Sì, sì. È qui. Allora, qua giù c'era quello che ha fatto il no scope e mi ha fatto l'hit marker. Ah, sì, sì. Ed è la giù. Cazzo che faccio l'hit marker, minchia, sono peggio gli altri. La giù c'è... Ma vaffan... Non sei caduto. Cioè, sto laggando. Sono annegato nella lava. È sparito, è morto. Sto laggando. Mi ha mangiato la lava. Io, raga... Ancora diamante! Ma guarda che è pieno di diamante. Ragazzi, la più grossa scoperta di diamante in tutta la storia di Minecraft l'abbiamo fatta in diretta. Di Minecraft del mondo. Esatto. Guarda là. Aspetta. Lo vedete? Diamante laggiù. Cioè, diamante ovunque. Sì, ma mi ha inghiottito la lava. Non vale. Mo' il diamante va a finire nella lava. No. Ti picchio. Sono otto pezzi, no? Quindi io devo avere otto. Anche se sto laggando. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Ok. Ora manca quel pezzo laggiù. Che però c'è sempre la lava che rompe le palle. Ah, ce ne so. Minchia. Sì, vabbè, va. Ho capito. Cosa? È pieno di diamante anche qua. Ahà. 12. Sì? Sì, sì. 12 pezzi di diamante e quel pezzo là che ti ho fatto vedere ancora prima non l'ho scavato. Cioè, dovevo scavarlo ancora. Perché continui a scrivere cattate? Io. Eh. Per vedere se laggo. Ah, buono. Sto pareraggando. Poco ma laggo. Ok, questo non l'ha laggato, quindi dovete iscrivervi. 13. Ok, ho finito di laggare e sono finiti anche i diamanti. Direi che 13 sono un bel gruzzoletto. Secondo me, una volta che bisogna trovare il diamante, va con un'altra cosa. Eh, dimmi tu. Iscrivetevi. No, un altro altro. Adesso è arrivato, iscrivetevi. Sì. Ok, perfetto. Siamo. Non lagghi, eh. No, no. No, tu non lagghi, io non sto laggando. Io. Io non sto laggando adesso. Anch'io. E allora chi è che lagga? È Luca. È l'altro Luca. E sto laggando, vabbè. No, non sto laggando. Vai, fai strada. Fai strada. Ma dove sei? Ah, eccoti. Fai strada. Fai strada, io sti sono dietro. Boh, siamo tornati su. Questa è la nostra bella casa, questa è stata la nostra spedizione. Molto... Ha fruttato molto, diciamo. Boh, dai. Direi che il video di oggi può finire qua. Scusate, sarà un po' noiosetto. È lungo. Però, boh. Depositiamo tutto dentro il nostro contenitore. Allora, vediamo. Allora, dato che non c'è molto... Quante volte ho detto allora? Ma... Ma... Te l'abbiamo tenuto nascosto, eh? Ma... Allora, dato che non c'è molto da dire... Cioè, ci sarebbero troppe cose da dire, ma non abbiamo tutto questo tempo, perché Minecraft... Dovremmo fare un miliardo di video, non abbiamo tutto questo tempo, perché YouTube non ce lo permette. Prendo fiato. Vi ringraziamo per esservi iscritti, per aver seguito questo video. Il prossimo penso che sarà su Oblivion. E poi tipo, si riparte con Code, Battlefield... Ma non su Oblivion, lo faremo su Skirim. Abbiamo i gameplay ufficiali di Skirim e commenteremo direttamente quelli. Il video sarà... Sarà lungo tipo 8 minuti e... Boh... Niente, dai, direi che basta. Mettete i video in preferiti, mettete mi piace, iscrivetevi, dateci 100 euro e per il video di oggi possiamo finirlo qui. E dite... Ficcate nei commenti che... Tra i gemi dei 5 euro. Sì, sì. Sì, sì. Proprio tranquillo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sono morti tutti. Dai ragazzi, uccido la Dict Stractor e poi finisco il video. Dai, dai. Deve morire. Deve morire. È morto. Ciao a tutti ragazzi, iscrivetevi e... Mi piace, commenti e tutto. Ciao, ciao.